Ed ora andiamo a Nuoro dove la notte dei ricercatori affascina e conquista i Nuresi e non solo. Una maratona di 48 ore, di eventi tra dibattiti, convegni e installazioni interattive, convegni e spettacoli, progetti culturali rivolti a un vasto pubblico e chi ha avuto come epicentro il centro polinfunzionale di Via Roma, l'ex mercato civico e le scuole. Ce ne parla Sonia Meloni. Insegnare la sicurezza stradale attraverso giochi virtuali per adolescenti e adulti è uno spazio apposito per bambini, allestito con macchinine e tutta la segnaletica stradale. La mostra dei battoncini Lego a cura dell'associazione culturale Calaris Brick, con tantissime riproduzioni come la fantastica Piazza San Marco e la Basilica di San Cargia. Un confronto tra esperti e cittadini sulle onde gravitazionali, sui buchi neri, sul Big Bang e sul destino del nostro universo. Un forum sullo sviluppo di Nuoro come area vasta attraverso il progetto Next Generation, collaboratori di pianificazione strategica e institutional building attraverso le città pilota. Riflessioni sull'opportunità di sviluppo della candidatura di Lula a ospitare l'Einstein Telescope, ma anche riflessioni sul futuro del nostro pianeta. Presentazioni di studi da parte del Consorzio Universitario Norese per la salvaguardia del nostro sistema ambientale e faunistico. Tutto questo e tanto altro ha caratterizzato la notte dei ricercatori 2023, quello che è considerato l'evento scientifico per eccellenza. Un'esperienza affascinante che ha conquistato l'attenzione dei nuresi, registrando il pianone in ogni iniziativa. Una maratona di 48 eventi tra dibattiti, conveni, installazioni multimediali interattive, conferenze spettacolo, seminari, lezioni, incontri pubblici, progetti collaborativi e culturali. Rivolta al vasto pubblico e agli studenti di ogni genere e grado, e che ha avuto come precentro il centro polifunzionale di Fia Roma, l'ex mercato civico e le scuole. Ad Abbasanta, sul lago Omodeo, si è svolto il momento conclusivo di un'articolata esercitazione di colonna mobile regionale organizzata dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna e coordinata dalla Prefettura di Oristano. Lo scopo dell'esercitazione è stato quello di verificare e perfezionare l'applicazione di importanti procedure operative finalizzate al soccorso della popolazione e agli interventi tecnici urgenti su uno scenario di emergenza alluvionale. In particolare sono state simulate attività di ricerca e soccorso in ambito acquatico e alluvionale, l'utilizzo di sistemi innovativi di spegnimento, attività di movimento terra con l'utilizzo di mezzi meccanici, l'assessment di fabbricati danneggiati, il trasporto e il montaggio dei moduli di supporto logistico. E dopo il Piemonte successo nei giorni scorsi ad Alghero per la favola sinfonica tratta da un libro della veterinaria oristanese Monica Fais, il servizio è di Andrea Azzori. È ritenuta la veterinaria più famosa d'Italia, ma per curare e salvare gli animali non agisce solo nella sua clinica di Oristano. Si chiama Monica Fais e da uno dei suoi libri, dedicato al tragico incendio del 2021 nel Montiferro, è nata un'opera sinfonica con voce narrante. Come è nata questa idea? È nata perché uno dei musicisti dell'orchestra che insegna appunto nella scuola della Fondazione Fossano Musica aveva letto il libro, ci conosceva e voleva e ci ha proposto una trasposizione in musica. Noi non pensavamo che prendesse questa dimensione naturalmente perché poi la Fondazione Fossano Musica ha fatto sua l'idea di produrre proprio un concerto sinfonico. Quindi ha mandato al maestro compositore Lorenzo Subrizi di scrivere un'opera e io ho scritto il libretto dell'opera. Dopo la prima in assoluto in Italia, avvenuta l'8 luglio scorso a Fossano, in provincia di Cuneo, l'opera musicale è andata in scena ad Alghero. Un grandissimo successo di pubblico perché c'erano 700 persone in platea, siamo stati accolti veramente benissimo dall'amministrazione di Alghero, dalla Fondazione Alghero Ex Meta, anche perché in concomitanza avevamo la presenza del maestro Michelangelo Pistoletto che era in platea e che ha, come posso dire, sposato la nostra idea di azione nella trasformazione di eventi tragici e calamitosi, come poteva essere l'incendio, in una salvaguardia di quello che era e la creazione di un nuovo step nel quale l'uomo e gli altri animali, e cioè il primo paradiso e il secondo paradiso, si uniscono a formarne un terzo. È positivo il bilancio dei visitatori che negli ultimi mesi hanno visitato le opere esposte al Museo Ruzzitu di Arzachena, protagonista di un importante piano di rilancio. Stefania Costa A poco più di un anno dalla riapertura, il Museo Civico Michele Ruzzitu di Arzachena ha registrato, solo nei mesi estivi, 3.000 visitatori. Il Comune tira le somme delle prime grandi esibizioni temporanee, protagoniste nella rinnovata struttura che fino al 30 settembre scorso ha ospitato EID, la collezione di scatti esclusiva firmata da Anna Gabriel, fotografa, regista, scrittrice, figlia del cittadino onorario di Arzachena, Peter Gabriel. L'esposizione, inaugurata il 6 agosto alla presenza del leggendario cantante, padre dell'artista, è arrivata da Arzachena dopo aver toccato Londra, Parigi, New York e Los Angeles. Successo anche per la mostra Piacere, non sono io, quattro capolavori in cerca di identità. Entrambi gli eventi sono parte del piano di rilancio del museo promosso dalla delegata alla cultura del Comune, Valentina Geromino. I 3.000 visitatori della sala museale di via Mozart rappresentano un importante risultato per Arzachena, frutto della sinergia con la municipalizzata Gesecco e di un'attenta strategia che mira a qualificare sempre più la struttura, posizionandola nel panorama regionale, grazie anche all'investimento di selezionate mostre temporanee e di un'offerta formativa rivolta alle scuole. Gli eventi al museo non sono terminati. Sabato 21 ottobre è in calendario il convegno La Civiltà degli Stazi, organizzato dall'associazione Liberamente Me, a cui seguirà una mostra di reperti del tempo. I due appuntamenti rientrano in un progetto più ampio in agenda, il penultimo weekend di ottobre, messo a punto in collaborazione col Parco Geo Minerario Storico e Ambientale della Sardegna. Nei giorni scorsi ad Assisi c'è stato un interessante convegno dedicato al frate conventuale originario di Tonara, padre Michele Todde, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò molti ebrei. Entro il prossimo mese di aprile verrà presentato un nuovo cammino organizzato dalla pastorale del turismo dell'Arcidiocesi di Oristano, Daniela Astara. Nel silenzio e nel nascondimento è entrato nella rete clandestina, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò gli ebrei, e padre Michele Todde, frate conventuale originario di Tonara. A lui è stato dedicato un convegno ad Assisi denominato La Fraternità che salva. Ad organizzarlo la Diocesi di Assisi con l'Arcidiocesi di Oristano, la Basilica Papale di San Francesco, l'amministrazione comunale e il Corro Polifonico Femminile di Tonara. Tanti gli interventi, tra i quali quello di padre Felice Autieri, che ha mostrato il luogo dove all'interno della Basilica padre Michele Todde nascose 300 ebrei. Padre Felice, uno dei fratti proprio del Sacro Convento, che ha illustrato come avveniva, diciamo, questo nascondere gli ebrei. Di solito una ventina erano nel campanile, poi quando arrivava la soffiatta che stavano arrivando per la perquisizione, allora li portavano in un sotterraneo proprio della Basilica Superiore. C'era una bottola e lì, appunto, nell'intercapedine tra la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore, dove anche decine e decine con i bambini venivano nascosti per evitare che venissero trovati. Nel corso del convegno, Don Ignazio Serra, direttore dell'Ufficio Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi di Oristano, ha illustrato il cammino sulle orme di padre Michele Todde, pellegrini nel cuore della Sardegna. Entro aprile sarà presentato il cammino in memoria di padre Todde, proprio a Tonara, 25 chilometri come il cammino di un giorno, dove si parte da un centro che è la chiesa di Sant'Antonio e si dirammano dalla chiesa di Sant'Antonio, che è una sorta di corolla, n cammini come n pettali, per evidenziare tutti i punti più significativi legati alla figura di padre Todde e del paese. Passiamo allo sport. Archiviata la sconfitta di Firenze, la quinta in sette gare per il Cagliari di Claudio Ranieri, domenica arriva la sfida interna contro la Roma di José Murrigno, un match non banale per il tecnico rosso-blu, ancora alla ricerca del primo successo in campionato Francesco Aresu. Chiudiamo la pagina sportiva e concludiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della Rete. Grazie per averci seguito,